Prima di fare milioni di euro, ovviamente non vi nascondo che era piuttosto soddisfacente fare il figo mostrando orologi, macchine, beni di lusso e cose costose. Poi, in realtà, col passare degli anni, dopo aver fatto diversi soldi e avendo la consapevolezza di potermi permettere diverse cose, sono cambiato totalmente. Diciamo che l'impatto più grande della vita è stato lo scatto dai 500 euro al mese che facevo, con la mia carriera da notatore professionista, al milione di euro raggiunto dopo solamente 18 mesi con mio fratello. E anziché rilassarmi e dire, oh cazzo ho fatto da zero un milione di euro, ho continuato come ben sapete per diversi anni a fare quello che faccio ancora oggi e poi, ragazzi, il resto ovviamente è storia. In nove anni e mezzo abbiamo generato oltre 20 milioni di euro, però non pensiate che esiste il pulsante magico per farvi fare questi numeri. È stata ovviamente tutta una questione di costanza, di formazione da persone che facevano molti più soldi di me e non ho mai messo in dubbio i loro insegnamenti. E questa è la chiave, quindi non esiste la fortuna o queste cazzate, esiste solamente la voglia di fare e investire su se stessi, investire in formazione e credere in quello che ovviamente viene insegnato.